Dagli ultimi interventi di potatura degli alberi effettuati da Aset in diverse zone della città, tra cui Via Papiria, Viale 12 Settembre e gli arbusti presenti nei pressi della passeggiata dell'Isippo, è intervenuta l'associazione ambientalista Lupus in Fabula, in quanto si è interrogata sulla logica dei tagli effettuati dal personale addetto per la gestione del verde urbano, che in alcuni casi hanno lasciato solo le branche primarie della lunghezza di pochi centimetri, spogliando quasi del tutto gli alberi dalle foglie. Riteniamo che non siano rispettate le normali regole di potatura, che sono disciplinate anche dallo schema di regolamento regionale, che il Comune di Fano avrebbe dovuto adottare già dal 2016, ma che però non ha adottato, ma questo non significa che chi opera nel verde non si debba attenere a questo regolamento. Reginelli dice che rispetta quelle linee guida, ma lo inviterà a guardare a pagina 41 delle linee guida per capire che sta sbagliando effettivamente il modo in cui ASET, ma anche altre ditte che operano per conto di ASET nella potatura delle alberi d'atto fusto, stanno operando. Tra una buona potatura e una cattiva potatura c'è un po' di differenza. Noi diciamo che un albero in linea di massima va potato solo quando serve, perché per l'albero è sempre un grosso stress, questo comporta la riduzione della sua capacità vitali, anche della metà, già ampiamente compromesse dal dover crescere in un ambito urbano che è poco favorevole. Quindi una pianta potata male richiede anche un impiego economico di soldi da parte dell'amministrazione ancora più ampio, perché occorrerà potarla di nuovo più frequentemente. L'associazione chiede un incontro congiunto con l'azienda pubblica e i comuni di Fano per trattare non solo il tema delle potature, ma anche la programmazione futura. Sulla questione intervenuta ASET, ribadendo ai nostri microfoni, che gli interventi di potatura sono effettuati sulla base delle linee guida per la gestione del verde urbano, diramato nel 2017 dal Ministero dell'Ambiente. Sono trattati come devono essere trattati. Noi seguiamo le norme e seguiamo i regolamenti che ci sono. Poi sui regolamenti che non ci sono non abbiamo nessuna intenzione di seguirli finché non vengono in qualche modo acquisiti dall'ordinamento. Non abbiamo avuto nessuna stregliata perché nessuno ci ha mai detto che, cioè le autorità competenti ai controlli, che quello che facciamo lo facciamo male. E poi sul discorso della formazione non aspettiamo certo le associazioni che ci devono dire come formiamo i nostri collaboratori.